Nessuno spiegamento di forze potrà essere sufficiente se il comportamento delle persone non si adeguerà o non continuerà ad adeguarsi alle misure anticontaggio più comuni. L'appello arriva dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, all'indomani del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in vista delle prossime festività pasquali in programma nel fine settimana. Il rischio è quello di vanificare gli sforzi nella tre giorni del Rosso Generalizzato, che vieta spostamenti senza comprovata necessità, chiude gli esercizi commerciali ma consente per una volta al giorno, nell'ambito del territorio regionale, la possibilità di recarsi a casa di amici e parenti, massimo due persone che diventano quattro in caso di minori di 14 anni. E c'è chi già si starebbe organizzando per le rimpatriate, i pranzi in campagna, alla faccia di appelli e raccomandazioni. Dopo un anno d'altronde la stanchezza emotiva e fisiologica, ma gli attori istituzionali continuano a investire sulla sensibilizzazione per evitare il dilagare del contagio e consentire la famosa accelerata annunciata sul fronte della vaccinazione. Il signor questore, che si occuperà quindi dell'organizzazione, nell'ambito del tavolo tecnico, di tutta l'organizzazione dei controlli, ha assicurato, così come sta facendo ormai da diversi mesi, soprattutto nei fine settimana, un potenziamento delle forze in campo. E' chiaro che il controllo, che sarà sicuramente capillare a pannaggio di tutte le forze di polizia, deve corrispondere in realtà ad un comportamento responsabile da parte delle persone. Il loro comportamento, la loro azione è a tutela dei cittadini, quindi il controllo viene fatto a tutela dei cittadini e dall'altra parte i cittadini devono essere pienamente consapevoli e collaborativi in questo momento. Festeggiare la Pasqua si può fare in modo alternativo, facciamolo nell'interesse soprattutto dei nostri cari, soprattutto quelli più fragili, noi stessi. Ecco, la sicurezza di tutti dipende da noi, dal nostro comportamento e dal nostro senso di responsabilità. Sarà quindi una Pasqua senza i tradizionali riti, ma con i controlli a tappeto. Nel weekend intanto sono state levate altre due sanzioni anti-covid, due giovani sulmonesi fermati dai carabinieri mentre si trovavano in auto, senza mascherina. Quando sono stati controllati dei militari, i giovani non conviventi non avevano indossato i dispositivi di protezione individuale, da qui la multa maggiorata, ovvero da 400 a 533 euro. E in corso di valutazione invece il caso dell'anziano di Prato Laveligna, positivo al covid, che è stato avvistato nei pressi della farmacia della centrale piazza mentre ritirava alcuni medicinali. All'esito degli accertamenti dei militari, si è scoperto che l'uomo era autorizzato a uscire di casa per accompagnare la moglie a Sulmona, in località incoronata, per il tampone molecolare di verifica. Rincasando si sarebbe fermato in farmacia, forse per non essersi reso conto della situazione, viste alcune sue problematiche, per cui i carabinieri stanno approfondendo la vicenda, perché le voci sono una cosa, i fatti tutt'altro. La speranza è che anche i controlli si concentrino su quei fronti da tempo attenzionati, soprattutto nei piccoli centri dove negli ultimi giorni si sono registrati i cosiddetti contagi a catena.